Ciao, mi chiamo Sabine, ho 26 anni e sono metà ganese e metà iguriana. Sono contentissima di fare parte di questo gruppo di lavoro, di questo progetto che mira a fare conoscere, a divulgare simboli e la bellezza delle culture africane. Sono pronta e non vedo l'ora di mettermi a lavorare con voi.